Ciao a tutti, questo è l'Artist Recording Studio Mobile, ci troviamo in questa location devo dire adeguata, visto che il tempo fuori è quanto bagnato. Siamo qui per registrare con la regia mobile un cantante rap e pop che non ha una sua sala prove e quindi siamo venuti noi e ci incontriamo qui. Il setup è molto semplice, il nostro Macbook, semplice Apogee One è più che sufficiente per questa situazione, abbiamo alcuni ascolti, queste oggi non verranno utilizzate e questo angolino, più che sufficiente per registrare la sua voce. Questo è l'Artist Recording, è uno studio mobile che si offre per registrare in sala e prova, a domicilio e in situazioni anche come queste appunto. I costi sono più che abbordabili essendo uno studio mobile e non uno studio fisso e quindi con costi maggiori. potete ascoltare i nostri lavori su il nostro sito www.artist-recording.com o la nostra pagina di Bandcamp www.artist-recording.bandcamp.com o visitare la nostra pagina facebook www.facebook.com.artist-recording Bene, aspettiamo che arrivi, siamo pronti e ciao a tutti. Non serve più parlare, le chiacchiere stanno a zero, ora che, ora che è finito tutto tra di noi, e poi qua altro, ora che è finito tutto tra di noi, e cancellerò i ricordi e non guarderò mai più indietro, ora che, ora che è finito tutto tra di noi, ora che è finito tutto tra di noi, ora che è finito tutto tra di noi, poi lo trovi di tu. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 脫a in buon dato. Grazie a tutti.